Non è la postura, un'abitudine che veramente andrebbe presa perché la postura definiamola corretta ma per darci le indicazioni giuste è un piacere ritrovare con noi il professor Carogero Foti docente di medicina fisica e riabilitativa all'Università Tor Vergata di Roma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e ai telespettatori. Quale tipo di ginnastica è? La ginnastica che tutti sentiamo dire posturale, veramente ci può aiutare? Sì, certamente ci può aiutare. In realtà parliamo di postura forse. La postura è l'assetto che il nostro corpo assume nello spazio, nell'ambiente rispetto a parti del corpo stesso che è influenzata dalla gravità, dalla forza di gravità ed è importante contrastarla. Ma esistono diversi tipi di esercizi posturali? Sì, in realtà è importante secondo me da subito definire una rieducazione posturale da una ginnastica posturale. È una definizione che spesso non viene ben analizzata. La rieducazione posturale riguarda il paziente che esce da una fase acuta, da una fase traumatica, da una fase dolorosa e viene affidata al fisioterapista che mette in atto delle tecniche fisioterapiche speciali per quel tipo di disabilità. La ginnastica posturale viceversa è una attività allenante adattata alla disabilità molto utile per il mantenimento della condizione psicofisica. Questa ginnastica posturale viene portata avanti dai laureati in scienze motori o con specialistica in attività allenante adattata. Quindi sono due cose diverse. E allora, professor Foti, scopriamo con Antonella Sciocchetti quali sono gli esercizi che ci possono aiutare nella postura. All'interno che sappiamo noi, se ci muoviamo, non ci muoviamo, rimaniamo fermi. E' un guaio, è meglio tenersi in movimento. La schiena deve essere libera per lavorare meglio sulle spalle. Il lavoro di oggi lo facciamo con un focus sulla mobilità della colonna vertebrale, sulla flessione, cioè con i movimenti di chiusura, e sull'estensione con i movimenti di apertura. associato anche con la mobilità della spalla e della scapola che favorisce un miglior movimento della gabbia toracica. Benissimo, lasciate andare giù le braccia, allungate le gambe e prendetevi una piccola pausa. La pausa ha un'utilità proprio funzionale. Le persone sono grandi, hanno anche bisogno di rilassarsi. Gli esercizi vanno eseguiti e poi c'è un arco temporale in cui vengono compresi dal sistema nervoso, dal sistema muscolare. Fate scivolare le braccia sul pavimento fino ad arrivare in diagonale, vicino alla testa, ma non attaccate alla testa, e riscendere. Quando cammino, quando porto anche pesi, riesco a equilibrare di più la fatica sulle gambe, sulle braccia. È un momento per condividere qualcosa, condividere il movimento che facciamo, tu come ti senti, com'è andata, io ho trovato questa difficoltà. E quindi le motivazioni sono, anche qui, sono varie. Dal punto di vista fisico, stare meglio, all'aspetto emotivo sociale. Stare in compagnia, soprattutto, perché a casa, sì, devi fare tante cose, però con chi parli? E grazie ad Antonella Sciocchetti abbiamo fatto un po' di ginnastica e abbiamo capito che sono esercizi semplici, professor Foti. Non sono complicati da svolgere? Assolutamente semplici, da fare in gruppo, divertenti, e quindi certamente migliorano la qualità di vita delle persone. Diceva, appunto, c'è anche per una riabilitazione, nel momento in cui abbiamo una disabilità da gestire, ma quante volte a settimana dovremmo fare questi esercizi? La ginnastica posturale è ricondizionante. Bisognerebbe farla da una a tre volte alla settimana. In genere sono sedute che durano da 45 a 60 minuti, iniziando però in modo graduale, cioè iniziando con una seduta a settimana e poi mano a mano incrementare il numero e il ritmo.